La 10 Reggio Emilia, 5 anni che facciamo la fiera di Cremona, sempre con un ottimo riscontro, per noi è molto importante e significativa, buon afflusso di persone, di visitatori. Tra l'altro qui ci visitano i nostri concessionari dove portano clienti e quindi per noi è molto importante questo appuntamento annuale della fiera di Cremona. La nostra gamma in agricoltura è molto vasta, qui alla fiera di Cremona abbiamo portato alcune delle macchine che noi produciamo, tra questi e alle mie spalle abbiamo un 40 quintali a 7 metri d'altezza, poi ci sono altri modelli che fanno parte della nostra gamma. Sono macchine che si possono usare per molteplici utilizzi, per i balloni, con il cestello porta persone, per movimentare comunque tutto quello che è la stalla, spostare il lettame. È una macchina molto molto versatile, molto molto comoda, gli allevatori la stanno apprezzando, si colloca ormai in una fascia alta di utilizzo, quindi è veramente veramente versatile, è versatile come macchina, molto facile da usare con tutte le sicurezze del caso, è una macchina che può essere equipaggiata con una trasmissione con vario system idraulica oppure con il power shift, quindi l'utilizzo è veramente notevole di questa macchina, è molto 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 versatile.